e qui ho imparato il modo di vivere loro la comunità le riunioni che cioè il modo di perdonarsi. Ho deciso da qui di studiare medicina, di tornare in Italia, di prepararmi per ritornare su delle zone povere. Queste persone che non hanno assolutamente nulla noi le aiutiamo, il Signore è grande, la provvidenza c'è. Che faccio poche cose, le piccole poche cose che riesco a concludere in un anno sono quelle che mi danno un grande senso del vivere, dell'esistere.